Nell'esercizio 2018 è in perdita circa il 23% delle 2.656 società a controllo pubblico, con un risultato d'esercizio negativo che si attesta sul valore di 555 milioni di euro. Lo rivela la Corte dei Conti, che ha individuato 7.154 organismi partecipanti in via diretta e indiretta dagli enti territoriali e ha rilevato 101.478 partecipazioni. Nei servizi pubblici locali meno di un quinto delle società controllate è in perdita, mentre nei servizi strumentali quasi un terzo presenta un risultato di esercizio negativo. Come rilevato in passato, gli enti tendono a conservare le partecipazioni detenute senza alcun intervento di razionalizzazione, con percentuali superiori all'80%.